L'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, si adegua al piano di razionamento delle forniture idriche appena avviato da Siciliacque. I dettagli sulle riduzioni. Come già pubblicato, i volumi d'acqua negli invassi Fanaco e Leone sono sotto il livello di guardia a causa della siccità. E a fronte di ciò, da lunedì scorso 8 gennaio, è stato avviato da Siciliacque un piano di razionamento delle forniture idriche, definito dall'autorità di Bacino, nei comuni serviti da Siciliacque. È ridotta la portata d'acqua del 10%, in alcuni casi del 15%, a 39 comuni nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, più due consorsi di bonifica, Agrigento 3 e Caltanissetta 4, collegati direttamente al Fanaco o ad altri acquedotti alimentati dal Fanaco. E da venerdì prossimo, 12 gennaio, ultimati alcuni interventi sul sistema acquedotistico Garcia, saranno coinvolti nel piano di riduzione anche 15 comuni del Trapanese. Ebbene, adesso l'Aica, l'azienda idrica dei comuni Agrigentini, ha a suo malgrado, condiviso e predisposto, altrettanto, un piano di contenimento delle forniture idriche dagli invasi Fanaco e Leone. Nel dettaglio, nei comuni di Canicattirra, Vanusa, Caltabellotta, Montevago, Lucca Sicula, San Giovanni Gemini, San Biagio Platani, San Buca di Sicilia e Villa Franca Sicula, dunque, saranno applicate le misure di mitigazione consistenti in diminuzioni di portata che variano dal 10 al 15% rispetto alle portate medie del periodo. Inoltre, con l'obiettivo di ripartire in maniera equa il carico di riduzione idrica a tutti i comuni gestiti da Aica, ove idraulicamente possibile, grazie alle interconnessioni esistenti tra gli acquedotti, sarà effettuata una rimodulazione delle portate idriche che prevede una riduzione di circa il 10% anche nei comuni serviti da fonti gestite da Aica.